buonasera ora vi porto nella stanza dove stanno producendo quei due ricotteri di francesco frano e ufo buonasera buonasera io innanzitutto per questo video backstage dobbiamo annunciare che è il primo backstage da lucidi punto numero 2 che abbiamo un regista che si è ha fatto un nuovo acquisto è il nostro regista il numero 1 vabbè non andiamo nella volgarità e niente stiamo lavorando al terzo pezzo del disco bari ultimatum non ti avvicinare troppo terzo beat mi raccomando fammi sbarone che mi piace sto fischio beh di un fatto vaffanculo terzo beat bari ultimatum aspetta fatti vedere storto pure tu sentite un po' sentite si dodo si si dodo si vogliamo ricordare gli appuntamenti del 2 dicembre bari pop metro c'è bacca storia rocce ci siamo noi ad aprire il concerto ci sarà reverendo ci sarà l'after party con lo staff di bari pop metro quindi non rompete il cazzo venite ci saranno le femmine il 9 dicembre vabbè questo è un ospite che si vende da solo non c'è bisogno neanche di pubblicità è marrakesh ad aprire il concerto di marrakesh max il nano subito dopo sempre l'after party con lo staff di bari pop metro big up bari yo mo tutta mia memoria ciao belli ciao Grazie a tutti.